Ciao, mi chiamo Clinton. Sto imparando l'italiano. Posso anche parlare inglese e un po' africana perché sono nato in Sudafrica. Ma adesso vivo nel sud-ovest dell'Inghilterra, in una città piccola. Dove vivi? Ti piace? Lavoro in un albergo. Mi occupo dell'amministrazione e altre cose. Il mio lavoro mi sta bene. Dove lavori? Mi piace imparare le lingue, giocare e fare passeggiate. Cosa ti piace fare? Vorrei parlare molto bene l'italiano perché Italia è un posto bellissimo. Ti piace viaggiare? Vivo con la mia famiglia, ma non ho una ragazza. La mia famiglia ha un cane, ma mi morde quando mia madre è a casa. Comunque, grazie per aver ascoltato. Avete capito tutti? Alla prossima settimana. Ciao.